Intanto ci sono dei punti da chiarire, Avvocato, quali? Innanzitutto c'è da chiarire, poiché la gamma oggi è nella lista delle società partecipate in dismissione da parte della regione, cioè sarà ceduta sul mercato, noi abbiamo fatto rilevare che al momento non è stato nemmeno iniziato un procedimento interno che porti poi alla valutazione dell'azienda. Tenga presente che le dismissioni sono atti di alta amministrazione e non atti politici, per cui ci sarà l'obbligo di motivazione, per cui la regione dovrà necessariamente iniziare un percorso certificato che porti a identificare qual è il prezzo di gestione sul mercato dell'azienda. Questo al momento non c'è e sicuramente frena la possibilità di avere interlocuzione con interessati seri. Avvocato, quindi dice lei si sta in pratica perdendo tempo in questo momento? Certo, si sta perdendo tempo. Innanzitutto si perde tempo affidandosi ai tavoli ministeriali che hanno tutt'altra funzione. È comprensibile che ci siano incontri a livello centrale per quanto riguarda la questione della cassa integrazione dopo il passaggio dalla Solagridal a GAM. Ma pensare che il Ministero, un tavolo di crisi ministeriale, possa dare un'indicazione di risoluzioni è fuori dalla realtà per un motivo molto semplice. I tavoli ministeriali di crisi intervengono come i mediatori in questioni tra aziende private e parti sociali. In questo caso ci si trova di fronte a un ente pubblico che è interamente proprietario di un'azienda l'ha già messa in una lista, la cosiddetta black list di dismissioni quindi se ne dovrà liberare. Non si vede il Ministero quali consigli possa dare su questa questione. E allora quale potrebbe essere a questo punto la soluzione per salvare la filiera vicola molisana e in particolare la GAM, l'ex Solagridal? Noi col circolo SEL di Boiano fin dal 2010 avevamo quantomeno proposto il regolamento comunitario 1083 che prevede i cosiddetti grandi progetti, l'articolo 39 con un budget minimo di 50 milioni di euro secondo noi si poteva almeno tentare quello di costituire e costruire un grande polo agroalimentare nel Molise in accordo con il Centro Nazionale Ricerche, con l'Università del Molise per un prodotto di qualità.